Bella a tutti Zio puoi dire cavoli Cavoli non va bene Grazie Questo video non serve un bel niente Tanto si si lo carico ma non lo carico Buongiorno, sono un tipo che non so cosa fare e basta Sono le 15.34 di un martedì pomeriggio Del 16 del 10 Del 18 Anna G.J. è a Via Quindi sono da solo casa Io sto dormendo Si sto dormendo ma su una schidolania Con una cosa in pelle Con una sedia in pelle Una tastiera e un mouse E davanti a uno schermo da 24 pollici A quanti sono? 27 27 A 27 in un 21.5 E basta Questa è la nostra giornata ideale E sarà qui in chiamata a non dirci niente Perché devi interrogare quella di diritto? Cioè si abbassa il game Ma quanto sei cuccio te? Ma quanto sei cucciolo Il cucciolo è il mio mio Davvero si Ma cucciolo te Cucciolo che hai chiuso il telecamera Cucciolo Piccioni Piccioni balorni Io ho dei piccioni Sapevo perché Mi sono sul cavolo I piccioni I piccioni I piccioni I piccioni I procioni Ma anche quelli ci sono qui Ma lo devo censurare questa cosa? Ah è un porco di Parai Tanto lo stesso Tanto abbiamo già più i nuovi Ma quanti video te ho ancora di copyright? Cinque 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 Sette Non ricordo Cinque Sei Ma perché fanno così tante storie questi? Perché esiste il copyright? Scrivetelo sotto nei commenti Ah eh Non si possono più vedere quelli non Con il copyright Guarda quando è che c'è il Samsung Galaxy A6 Plus? A nove felasse A nove felasse Nove Ho detto giusto Nove barad... nove Datemi un Nokia 3310 ora! Voglio un Nokia 3310 Cioè non sei contento di vedere un iPhone X? No io voglio una... un Oppo Un Oppo Ok No io posso avere una... X? No... Wappo X Wappo X Wappo X